Dopo un anno di stop servito ad organizzare il match di Coppa Davis Italia-Gran Bretagna disputato l'anno scorso, torna a Napoli il grande tennis con la Capri Watch Cup in programma dal 4 al 12 aprile, un evento internazionale che torna sui campi del club di Viale Dorn con un monte premi 5 volte superiori al 2013, in palio ci sono ben 125 mila dollari. La prima edizione della Capri Watch Cup prenderà il via sabato 4 e domenica 5 aprile con le qualificazioni. Da lunedì 6 entrerà nel vivo il torneo vero e proprio, con la finale per il titolo prevista domenica 12 aprile. Siamo attraversati da eccellenze sportive settimanalmente, anche domani con un evento di pallannuto importantissimo. Questo è un trofeo internazionale di tennis per fare sempre meglio. Del resto le immagini della Coppa Davis a Napoli hanno fatto il giro del mondo, quindi siamo pronti da un punto di vista organizzativo e sportivo e quindi da sindaco della mia città non posso che essere felice. Ricco come da tradizione il calendario di eventi che accompagnano il torneo, tra cui l'edizione 2015 del premio Città di Napoli dedicato alle eccellenze della città. La fase delle qualificazioni fino al 9 aprile sarà ad ingresso gratuito, a pagamento invece le giornate del 10, 11 e 12 aprile. Un super torneo da 125 mila dollari, il secondo più importante d'Italia dopo il Foro Italico, il più ricco di sempre ed è un trampolino di lancio per fare sempre cose più grandi in questa città. La città ne ha le potenzialità, le capacità organizzative e il coraggio che abbiamo dimostrato con la Coppa Davis e portando avanti queste iniziative dicono che questa città può avere qualsiasi tipo di evento. Con il biglietto della Capri Watch Cup si potrà accedere gratuitamente anche al Gran Premio di Trotto ad Agnano il prossimo 3 maggio. Grazie. Grazie.